allora io chiudo che siamo siamo andati lunghi non so quanti arrivano fino alla fine su un tema così importante ma anche complesso allora volevo solamente ricordare a tutti quanti questo qua che vedete a schermo del codice sconto se vi volete scrivere avrete una prova gratuita di sette giorni così almeno entrate nella piattaforma la vedete per me è veramente fatta bene ma proprio anche a livello grafico intuitivo non hanno duemila sezioni tremila tassi è fatta bene quindi vedetela la prova è gratuita e niente con questo Federico ti ringrazio sei stato esaustivissimo proprio grazie a te Roberto per il tempo e anche tutti gli spettatori che spero ci abbiano visto fino alla fine auguro perché secondo me c'è sta gente nel canale che va abbastanza deep abbastanza in fondo ciao ragazzi bentornati a tutti quanti in questo canale oggi nuovo location e nuovo ospite qui insieme a me ci sta Federico Pacilli che è il CEO di Crypto Books ciao Federico innanzitutto ciao Roberto e un saluto a tutte le persone che stanno guardando il video allora Crypto Books penso sia abbastanza nota in Italia per chi non la conoscesse è un software sostanzialmente di fiscalità Crypto e lui sostanzialmente è il fondatore il CEO di questa società quindi se ti vuoi presentare dirci insomma chi sei com'è nata l'idea la società tutto quello che insomma che ti riguarda chiaro chiaro allora io sono un imprenditore poi adesso si dice imprenditore tech nel senso che mi sono sempre appassionato di mondo digitale di sviluppo software da quando ho finito l'università anche se poi all'universitario sono lavorato in economia quindi sembrerebbe un ambito diverso ma poi per passione sono entrato nel mondo dello sviluppo del software quindi ho sempre fatto questo da sempre nel 2016-17 entro in qualche modo in contatto con Bitcoin e da lì in poi fra virgolette ho un po' unito i puntini no? volevo in qualche modo fare poi un business legato al mondo delle cripto e un tema che conosco molto bene che è quello della contabilità e dei software di contabilità appunto come dicevo ho unito i puntini e a quel punto è nato è nato CryptoBooks è un'esigenza reale no? perché in qualche modo è una super reggenda e comunque è particolare questa cosa perché è molto bella interessante secondo me dà anche tanto spunto magari pure a chi ci guarda perché anche io mi sono avvicinato nel 2016-17 però forse ingenuamente forse magari non so anche per l'età però io non ho subito pensato al appunto ad unire puntine e magari a farci una società anche una bellissima società ma semplicemente l'ho approcciato inizialmente da un punto di vista proprio speculativo quindi tu invece hai fatto immagino che sia investito che hai iniziato a pensare ad un'opportunità insomma sì assolutamente poi il mondo della blockchain si divide come posso dirti in soggetti che ovviamente vedono questo mondo in maniera diversa cioè mi spiego meglio sai ci sono quelli della prima ora i cyberpunk che dicono no la blockchain e bitcoin va vista perché? perché crea le condizioni di libertà e quindi diciamo di non controllo della moneta e tutto il resto quindi per quelle persone lì vedono bitcoin come potenziale mezzo di scambio cioè come denaro digitale altri come hai detto te magari lo vedono da un punto di vista speculativo o di asset allocation cioè c'è un capitale lo metto qui lo metto dall'altra parte quindi sai l'approccio al mondo della blockchain è bello perché c'ha questo sottofondo ci sono quelli un po' più idealisti quelli là che invece lo vedono da un punto di vista speculativo in ogni caso poi a un certo punto io sono entrato appunto appassionato di bitcoin onestamente e poi ovviamente anche la direzione che sta prendendo adesso il mercato della blockchain sta andando nella direzione di ci stanno tanti investitori che come dici te l'hanno utilizzato come asset e quindi i vari governi si sono mossi da un punto di vista fiscale a proposito a proposito di fiscalità andiamo a bomba sul tema del giorno tutta la nuova normativa ha sicuramente chiarito le cose in alcuni punti magari le ha ancora lasciate un po' dubbiose prima di andare proprio nello specifico e poi anche insomma fare le domande più nel dettaglio pure che hanno fatto alcuni utenti sul canale ti voglio chiedere tu cosa ne pensi a livello generale allora si possono fare due approcci ok si può andare a fare l'approccio quello dettagliato andare a vedere norma per norma capillo per capillo quelli che sono appunto come dicevi te le zone d'ombra le zone grigie quella che invece è normata ed è chiara e la parte invece che è un po' più così nel limbo e andare a fare il cavillo e capire che magari su quell'aspetto lì dobbiamo aspettare e tutto il resto io onestamente però la vedo da un altro punto di vista cioè qual è la ragione che c'è dietro a questa normativa perché se non capiamo come posso dirti le motivazioni per cui nascono e vengono fatti dei percorsi non capiamo neanche dove stiamo andando quindi è ovvio che quando si parla di tasse cioè non è che uno si alza una mattina e dice oh yaku stavate che bello che bello quindi questo diciamo l'approccio psicologico è questo non possiamo nascondere ma detto ciò la normativa io la vedo da questo punto di vista se tu leggi sia quello che diceva l'agenzia delle entrate prima della normativa quindi ciò che era famosi 51.000 valuta estera e vedi quella che è la normativa attuale più anche l'ultimo l'ultima circolare di pochi giorni fa dell'agenzia delle entrate l'idea è quella di equiparare le criptovalute agli asset tradizionali della finanza tradizionale da un punto di vista fiscale ovviamente parlo perché poi da un punto di vista sostanziale non è così perché hanno creato una nuova asset class cioè nel test unico della finanza e poi anche nell'ambito della normativa fiscale italiana ci sono le tasse per chi fa trading sugli etf sulle azioni sulle obbligazioni eccetera eccetera e a un certo punto il legislatore ha detto guarda esiste una nuova tipologia di asset class che si chiama criptoattività ok la tassiamo uguale a quelle altre ok perché c'è il 26% appunto di imposta sostitutiva sulla plusvalenza c'è il 2 per melle di imposta di bollo che uno dice ah caspita ci hanno messo una nuova tassa ma in realtà è la stessa tassa dell'ivafe e tutto il resto quindi se tu la inizi a vedere così c'è un tentativo di dire ragazzi se fate plusvalenze sulle cripto state facendo investimento su gli asset classi tradizionali della finanza tradizionale conosciuto come un asset in maniera proprio completa sostanzialmente con anche la tassazione giustamente e tutti i costi che ne conseguono vista così ovviamente devo essere anche sincero è logico cioè come per dire a un certo punto ok emerge questa nuova questo nuovo paradigma no? perché nel 2009 ovviamente nasce bitcoin bitcoin è un'azione è un'obbligazione cioè non è niente io ancora non l'ho capito è proprio astratto è in divenire tant'è che appunto nella definizione di criptoattività si è tenuta più larga possibile per farci rientrare tutto dentro pure gli nft però ovviamente questo è un po' anche la difficoltà di quando tu scrivi le leggi non è semplice detto ciò è migliorabile appunto come dicevo prima anche noi abbiamo mandato dei suggerimenti quando c'è stata la consultazione pubblica quindi insomma meno male perché sicuramente è una chiarezza perché adesso è molto più chiaro di prima quindi se avete fatto suggerimenti penso che hanno stati positivi se li hanno presi non lo so qualcosa qualcosa sì però immagino che anche altri l'abbiano invece domanda spinosa io qua c'ho un diciamo un dualismo di pensiero voglio sapere un po' che ne pensi riguardo e questo me l'hanno detto anche tantissimi iscritti quando abbiamo parlato magari più in passato di fiscalità qualche mese fa riguardo alla sanzione perché scusa faccio un piccolo 30 secondi cappello introduttivo io penso che la maggior parte delle persone ad oggi che stanno nelle criptovalute e magari ci stanno da qualche anno io penso che tantissime persone sono preoccupate perché da quello che io so che mi hanno comunicato molte persone negli anni passati non hanno dichiarato le criptovalute la motivazione vabbè è quella che non c'era una legge l'agenzia delle entrate non legifera di fatto quindi insomma non l'hanno fatto e tantissimi investitori ad oggi che ti tengono criptovalute che non sono pochi hanno proprio questa paura dicono ok io ora che devo fare cioè che devo fare quindi ci sta poi la sanzione tu cosa faresti cioè nel senso quelli sono i passaggi che una persona che oggi si trova in questa situazione ti assicuro e sono veramente tante motivo per cui io insomma ho anche parlato in passato di cripto books perché mi ci sono trovato bene decisamente tu cosa consiglieresti di fare cioè ti trovi oggi così sai che negli anni passati non hai dichiarato quali sono i rischi le sanzioni e cosa faresti allora come come dicevo prima quando bisogna capire ok quindi diamo un po' di punti fermi perché se uno capisce la situazione e il contesto può prendere delle decisioni più consapevoli allora capiamoci ovviamente l'agenzia delle entrate aveva fatto diciamo degli interpelli delle circolari e si era espressa tant'è che la normativa attuale recepisce quelle dichiarazioni dell'agenzia delle entrate come effettivamente le normative fiscali che devono essere seguite durante quegli anni quando parliamo degli anni parliamo dal 2016 al 2022 ok perché mi fermo al 2016 perché in realtà la regolarizzazione che è una parte della normativa importante quindi la possibilità di andare a regolarizzare gli anni pregressi arriva fino alla dichiarazione del 2016 ok interessante non lo sapevo ok ecco perché si parte io pensavo fosse una questione di prezzo ok è una questione diciamo puramente un tecnicismo diciamo legale che l'agenzia delle entrate può arrivare indietro fino a quel fino a quell'anno dichiarativo quindi che succede che si può adesso regolarizzare dal 2016 al 2021 perché il 2022 beh perché il 2022 il 30 novembre ancora facciamo in tempo siamo perfettamente nei tempi però da un punto di vista mentale bisogna capire che è come se ci fosse stato un prima e dopo cioè la normativa ti dice guarda caro contribuente quello che tu hai fatto con le cripto dal 2016 al 2022 dovevi comportarti come se fossero valute estere ok quindi conferma quanto sì ma non che devono essere valute estere è la normativa fiscale che c'era sulle valute estere a cascata valeva anche sulle cripto ok quindi dobbiamo metterci mentalmente rispetto a questo fatto dal primo di gennaio in poi del 2023 c'è una normativa nuova addirittura non si chiamano più criptovalute come le chiamavano prima si chiamano criptoattività perché è più largo dentro le criptoattività ci sono le criptovalute gli nft token di pagamento eccetera quindi che succede che iniziamo a capire questa cosa allora il parlamento ti dice ok ti do la possibilità di regolarizzare perché non era chiaro c'è stato un problema eccetera eccetera ma che cosa devi regolarizzare perché pure lì dobbiamo capirlo allora i punti fermi sono questi uno non hai fatto il quadro rw attenzione è soltanto un quadro ai fini del monitoraggio fiscale cioè tu dovevi dire c'ho tot a montare di cripto equivalente in euro ogni anno ok oppure hai fatto dei cash out hai generato delle plusvalenze ok e in quel caso le plusvalenze sarebbero dovute essere dichiarate nel quadro rt quindi è questo fra virgolette quello che tu da contribuente non hai fatto forse dal 2021 al 2000 scusami dal 2016 al 2021 e ti consento di regolarizzarlo altro tassellino così facciamo tutti i passi piano piano così capiscono scusami è giusto per ricapitolare per chi ci segue quindi per chi non ha dichiarato prima del 2016 sostanzialmente è inutile andare per chi non ha dichiarato invece dal 2016 al 2021 la nuova normativa cripto dice ok avresti dovuto fare questo lo puoi fare adesso in questa finestra lo puoi fare in questa finestra questa finestra è fino a novembre ricordo fino a 30 novembre fino a 30 novembre però adesso bisogna entrare nel particolare perché sì ok ho fatto dei cash out potrebbe essere accaduto ok ho fatto dei cash out ma se il tuo portafoglio cripto non aveva superato i 51.645,69 euro per sette giorni cioè quella soglia che vale per le valute estere la famosa soglia quella che in realtà è scritta in lire nel testo originale se tu non hai superato quella anche se hai fatto quei cash out in realtà non ricadevi nella dichiarazione del quadro RT cioè quello delle plus valenze quindi fare pure attenzione perché magari sì hai fatto dei cash out ma non stai all'interno dell'obbligo della dichiarazione di quelle plus valenze quindi attenzione quindi magari non hai fatto l'RT ma non dovevi farlo ok invece magari l'RW quello onestamente ci sono sempre sì ci sono varie interpretazioni io devo essere sincero ho poca voglia di fare fra virgolette polemiche perché poi ci sono alcuni professionisti che dicono andava dichiarato sopra la soglia dei 5 mili sì 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 certo no no ma ci stanno varie linee di pensiero io penso adesso la gente finalmente c'è una legge perché veramente prima era un po' troppo a tastoni anche secondo me però comunque sia riconosco anche che era effettivamente anche precoce e non facile normarlo adesso vabbè ci si è arrivati io l'avrei dichiarato a prescindere appunto negli anni passati perché non comportava un costo esatto ci sono anche investitori che comunque sia vabbè hanno la loro ideologia del bitcoin come hai detto prima come asset di libertà di centralizzazione quindi non lo hanno fatto a priori adesso ci sta una legge che dice tu la puoi pensare come ti pare detto molto alla romana però lo devi fare allora tant'è per farti capire il quadrare W dal primo gennaio 2023 in poi lì in cripto vanno inserite a prescindere anche se c'hai 10 euro di cripto devi inserire nel quadrare W quindi questo per farti capire la filosofia del legislatore anche diciamo pregressa vediamo pure questi aspetti quello che è previsto per il futuro cioè diciamo in qualche modo potrebbe anche farci capire quelle che erano le interpretazioni pregresse no allora questo aspetto è vediamo se possiamo regolarizzare gli anni pregressi ora poi c'è il discorso della sanzione allora sulla sanzione io voglio aprire un ragionamento perché purtroppo adesso devo entrare un po' nel tecnico quindi chiedo uno sforzo magari a coloro che ci ascoltano allora se tu non hai dichiarato dal 2016 al 2021 solo la parte del modello RW cioè le cripto che dovevi solo dire ce le ho devi pagare lo 0,5% dell'ammontare delle cripto che tu possedevi al 31-12 di quell'anno al valore di mercato ok quello ok quindi diciamo l'RW che avresti dovuto compilare col controvalore al 31-12 tu paghi lo 0,5% ovviamente la sanzione vista da un punto diciamo della sanzione regolare in realtà ovviamente lo 0,5 è molto più basso di una sanzione effettiva perché sarebbe diciamo molto più alta ci sarebbe il 30% sarebbe diciamo molto più alta però diciamo lo 0,5 sul valore di portafoglio che tu avevi al 31-12 è una somma ragionevole vista la sanzione ordinaria ok sulla parte invece dei cash out cioè della parte dell'RT quindi delle plus valenze tu paghi il 3,5 di sanzione ok ok quindi se non hai fatto un cash out ma non l'hai messo sull'RT perché non lo sapevi non l'hai fatto e puoi farlo adesso regolarizzandolo al 3,5% ma scusa ma questi numeri sono giusto per chiarire per gli altri sono per ogni anno giusto? per ogni anno in cui hai fatto cash out quindi nel 2016 si hai fatto cash out 2017-18 solo per quei due anni devi pagare questa sanzione quindi se uno avesse investito nel 17 non ha mai dichiarato fino ad oggi sostanzialmente paga 17, 18, 19 20 e 21 quindi 0,5 per 5 2,5% corretto corretto però parlo da questa cosa innanzitutto devi vedere se hai superato la soglia dei 51.000 eccetera per vedere se devi fare l'RT ma ok allora tu lo dovessi fare attenzione che il 3,5 però non è sulla plus valenza ah ok ok su tutto su tutto? tutto il portafoglio più addirittura ci devi sommare il cash out che hai fatto ok quindi spero che chi ci segue non abbia fatto plus valenze incassate prima perché la somma la somma può essere molto molto più alta del 26% della singola plus valenza ok cioè facciamo un esempio pratico questa va capita noi ovviamente siamo entrati nel particolare perché con il software perché poi noi che cosa abbiamo fatto abbiamo fatto un report che replica esattamente il modello della regolarizzazione dell'agenzia delle entrate poi magari se vuoi te lo faccio vedere ma guarda io per il momento il report che ho visto e sto utilizzando che lo utilizzerò in futuro sono veramente fatti bene io ti voglio chiedere perché penso è una cosa che magari una persona che adesso sta ascoltando perché poi il tema tasse non so se ci hai mai fatto caso ma mette proprio angoscia alle persone bravi ancora meglio paura perché sul gruppo quando si parla di tasse ci sta una piccola fazione di persone che diciamo il 2% che proprio invece le odia e non gli fanno paura dicono a me non me ne frega nulla ma il 98% delle persone sono abbastanza terrorizzate proprio hanno paura a muoversi non a fare cose illegittime hanno proprio paura di sbagliare quindi immaginando essere uno di questi investitori e ti ripeto secondo me ce ne sono molti in questo momento fai conto che decide io vado con CryptoBooks perché ho angoscia ad avere questa situazione cioè nel senso ho queste crypto non le ho mai dichiarate non so che devo fare voi gestite anche gli anni pregressi corretto? certo assolutamente cioè noi praticamente allora innanzitutto spieghiamo proprio velocemente che cosa fa CryptoBooks CryptoBooks è un software che funziona diciamo online quindi devi fare un account sul nostro sito tu colleghi o l'indirizzo pubblico dei tuoi wallet magari hai fatto anche delle transazioni in DeFi in altri protocolli oppure colleghi le API in sole lettura dei tuoi exchange oppure utilizzi i CSV per alcune piattaforme già come li scarichi dalla piattaforma stessa oppure con un formato che ti diamo noi collezioniamo tutte queste transazioni immagina tutte le crypto che tu magari hai movimentato e le trasformiamo in un vorrei essere al posto vostro comunque è un lavoro difficile ci siamo presi una vega abbastanza perché non c'è solo la complessità della contabilità poi anche dei casi d'uso magari ne parliamo ma c'è pure il problema di armonizzare tutti i formati di tutti gli exchange di tutte le immagino immagino comunque in ogni caso oggi stiamo a più di 400 connessioni quindi insomma abbiamo fatto un lavoro molto importante io ho visto la lista crescere giorno dopo giorno è molto interessante tutti quelli che ho io tutte le piattaforme ci stanno tutte Kraken, Vidstam, Binance Coinbase tutte quindi su questo veramente complimenti personali cioè veramente ci sta tutto pure tutta la DeFi quindi pazzesco esatto esatto perché l'altra cosa è anche interessante tutti i casi di usare la DeFi in ogni caso che facciamo noi prendiamo queste movimentazioni le trasformiamo in una contabilità perché un altro aspetto che ci tengo a precisare non è perché sono crypto ma le regole della contabilità non valgono quelle sono universali quindi deve essere tutto riconciliato tant'è che tu scarichi un nostro report solo se non ci sono errori di contabilità ok perché perché ovviamente se poi quello deve essere anche in qualche modo utilizzato per la dichiarazione deve essere tutto quadrato da un punto di vista contabile però questo ovviamente noi lato software facciamo queste queste verifiche e poi facciamo sei report oggi sono sette perché abbiamo fatto anche il report della regolarizzazione che ovviamente poi scaderà il 30 novembre quindi il discorso della paura se posso dirti la mia avendo vissuto e lavorato tuttora all'estero da molti anni è un aspetto culturale molto italiano forse le cause sono anche comprensibili però si guarda io anche ho notato questa cosa cioè noi qui abbiamo proprio tanta paura cioè è come se fossimo già colpevoli senza ancora essere senza ancora aver fatto nulla ci si sente paura di essere considerati colpevoli c'è una commissione di cose ripeto questo parlo vedendo anche l'esperienza che ho avuto diciamo all'estero nel senso che all'estero è molto fra virgolette più friendly la situazione tu fai la dichiarazione metti tutte quante le cose è anche più facile magari calcolare tutto e quindi anche il consulente che ti aiuta è agevolato da quel punto di vista invece sì come dici te in Italia magari c'è più complessità e quindi hai paura di sbagliare comunque ecco tornando tornando al discorso della della tassazione appunto italiana c'è la parte della regolarizzazione che ti dicevo prima che è anche lì dalla parte di cash out allora mentre sulla parte del quadro rw deve essere sincero una sanzione tutto sommato diciamo accettabile accettabile non gradita ma accettabile cash out potrebbe perché per molti convierrebbe lo stesso perché là dipende proprio come l'hai fatto di quanto l'hai fatto magari stai in profitto magari no giusto cioè per dirti se io avevo un bitcoin pagato 15.000 euro e l'ho venduto a 15.000 dollari e l'ho venduto a 60.000 dollari beh se avessi pagato il 26% di quella plusvalenza è più alto del 3.500 è vero se invece magari è una piccola plusvalenza magari vai a vedere se avessi fatto 15.000 scusami che ne so 58 60 pagare il 26% su quei 2.000 piuttosto che il 3.500 di tutto cambia no quindi per paradosso quella poteva essere calibrata meglio ecco al 30 novembre si ha questa finestra per regolarizzare questa situazione dopodiché sostanzialmente chi non l'ha fatto rimane comunque sia soggetto a possibili controlli suppongo soggetto a possibili controlli poi c'è tutto il discorso dell'OAM perché oggi gli intermediari cripto sono registrati presso questo registro e ogni tre mesi inviano i dati della clientela quindi posso far mi è venuta a mente adesso una domanda connessa a questa cosa dell'OAM siccome molte persone anche su Telegram non mi ricordo se ne abbiamo parlato nel gruppo o in privato molte persone sostanzialmente utilizzano la DeFi anche come scappatoia non solo perché magari possono mettere a rendita i propri asset con le liquidi di pool insomma tutte le solite cose però magari pensano che con la decentralizzazione con la DeFi appunto si possa riuscire in qualche modo a evitare qualsiasi tipo di controllo tu che ne pensi riguardo alla tassazione al controllo e se secondo te effettivamente si arriverà anche a normare a controllare la DeFi perché voi ho visto su vostro canale un video che proprio riguardava questo quindi se ci vuoi dire un po' riassunto perché è molto interessante guarda due settimane fa mi hanno chiamato ad un evento come relatore in cui ho raccontato fondamentalmente proprio questo tema qui cioè la travel rule che è quella normativa europea e come sta impattando anche a livello di DeFi cioè proprio sugli exchange decentralizzati ma anche su i browser wallet cioè facciamo un nome e cognome Metamask che è il più utilizzato da questo punto di vista allora pure lì bisogna capire le motivazioni fondamentalmente la DeFi e tutti quanti i protocolli oggi tu ci arrivi in DeFi perché hai comprato le cripto da qualche altra parte cioè questo è ovvio 99.99% delle persone ricadono ampiamente in questa categoria tu hai comprato le cripto da qualche parte attenzione potresti anche averle ricevute faccio un esempio come stipendio quindi ok magari magari hai ricevuto gli stipendi all'epoca in Bitcoin esatto oppure magari come donazione ma in ogni caso a cascata e tutto il resto eccetera partendo dal presupposto che in qualche modo essendo tutto quanto scritto in blockchain essendo che quelle cripto arrivano da qualche parte si può fare tutto quanto il percorso bello il punto della blockchain alla fine esatto fino ad arrivare al protocollo DeFi che hai utilizzato eccetera ma dallo stesso punto di vista quindi questo per dirti che già controllando i punti di ingresso e d'uscita puoi ricostruire tutta la storia in mezzo ok ma al netto di questo che è la situazione ad oggi che poi già esistono strumenti per questa cosa che ti ho detto non è che è una mia idea cioè chain lean un chain io ho conosciuto i ragazzi che lavorano in queste aziende cioè fanno questo di mestiere per intenderci per chi ci ascolta sappiate che non è una realtà futuristica la matrix già attuale cioè tu ti puoi comprare i servizi di questi due non ho nessuna sponsorizzazione da loro che succede ma allo stesso modo adesso si sta andando in un'altra direzione cioè i wallet tipo metamask si stanno andando a normare tant'è che questo è nuovo perché secondo me non l'ho letta nessuno se tu hai accettato le ultime condizioni generali di metamask c'è scritto che metamask si riserva il fatto di poterti applicare la tassazione direttamente all'interno del tuo wallet questa qua mi hai preso proprio alla scuola della sprovvista molto interessante questa cosa quindi ok quindi per chi pensa io la metterei così per chi pensa che la DeFi sia veramente decentralizzazione secondo me o si è veramente dentro il settore e magari si riesce per non so quale ragione a veramente a occultare le proprie cose oppure penso che bisogna sapere che sia molto facile risalire a quasi tutti i movimenti della stragrande maggioranza delle persone perché alla fine effettivamente entrando con una piattaforma centralizzata spostando fuori sulla blockchain è tutto rintracciabile ora sappiamo ci sono anche società che lo fanno proprio di mestiere allora quindi ok quindi la DeFi è completamente magari non ancora completamente però è abbastanza sotto controllo da un punto di vista fiscale quando ho fatto l'evento l'altro giorno io ho detto ho fatto una domanda molto semplice come si capisce se io sto utilizzando il paradigma decentralizzato effettivamente allora ci sono tre livelli allora ho detto ho detto ho tre domande facili la blockchain che utilizzo è veramente decentralizzata? prima domanda a cui devi rispondere è già qua è già qua è già qua ok due la DAP che sto utilizzando è effettivamente decentralizzata perché anche lì questa è un'aspettativa nel senso vedendo la direzione quindi questa non è nel legge se i protocolli nel prossimo futuro che quindi con le fondazioni e le aziende che stanno dietro a quei protocolli dovranno anche esse iscriversi a qualche diciamo istituzione anche lì la DAP che magari oggi è completamente decentralizzata può darsi che nel futuro non sarà decentralizzata quindi la DAP non dico che è probabile ma è una giusta intuizione sì terzo magari sto nella blockchain decentralizzata sto nella DAP decentralizzata ma il mio wallet è decentralizzato? ci sono tre livelli quindi alla fine tra il discorso di entrata e d'uscita che facevo prima più i livelli intermedi e le normative stanno andando verso quella direzione la DeFi è il prossimo ambito normativo ok adesso in quel momento hanno iniziato diciamo forse dalla parte anche facile ma anche quella che prende di più perché io penso che su 100 investitori 80% rimane su piattaforme centralizzate per semplicità tutele e cose del genere ci tengo pure a precisare un'altra cosa perché poi chi sta nell'ambito cripto ha quello spirito un po' più libertario perché comunque bitcoin molto spesso sì ok e quindi vede questi temi un po' come la criptonite per superman io non dichiaro non dichiaro poi magari ti arriva un accertamento a casa e dici ma porca però io che sono forse anche un po' più grande di alcuni perché comunque ho 41 anni quindi l'ho viste abbastanza tutte pure le crisi finanziarie precedenti eccetera e dico una cosa quando un mercato viene normato e c'è questa attenzione ovviamente si creano i presupposti per creare un'economia solida fondamentalmente perché bitcoin è bello che in maniera volontaristica venga utilizzato da tutto il mondo ma se tu non ci crei quel layer di servizi sopra che avviene grazie agli investimenti di imprenditori e grossi fondi che entrano se c'è però un mercato normato ok tu non puoi raggiungerlo oppure potresti raggiungerlo ma sarebbe una sfida diciamo rischi che fai un passo falso succede qualcosa e magari veramente non dico scoppia una bolla però magari le ripercussioni sono maggiori non essendoci ma è vero è giusto è come UST magari fosse stata normata ci fosse stato un regolatore dietro magari sarebbe andata a zero in 4 ore o quant'era insomma in poco tempo quindi sostanzialmente tu cioè ritieni pure per la tua esperienza che la normativa fiscale cripto non sia necessariamente una cosa negativa proprio di per sé a prescindere ma magari può in realtà porterà forse dei giovamenti allora io ovviamente tutte quante le cose si possono vedere in due direzioni in una maniera distopica o in una maniera diciamo di costruttiva nel senso come per dire la storia va in una direzione positiva ora tutti coloro che la vedono cioè entrambe le visioni hanno ragione cioè nel senso perché perché dico questo perché allora se dovessi farti però se dobbiamo essere però onesti intellettualmente e tu vedi la storia diciamo nei secoli ovviamente da un punto di vista diciamo economico di civiltà proprio ovviamente le condizioni medie migliorano oggi noi io e te possiamo prendere un aereo andare da un'altra parte del mondo a un costo ragionevolissimo nel senso alla portata di tutti già soltanto non lo so all'inizio diciamo negli anni 70 80 puoi dare un rene per fare andare a New York era un privilegio adesso ho detto una stupidaggine ma per far capire un po' il senso il senso della situazione quindi il discorso qual è? che le normative vengono fatte appunto perché perché ovviamente c'è bisogno di controllo e il controllo ha due facce della stessa medaglia cioè può essere utilizzato contro diciamo le libertà delle persone o può essere utilizzato per prevenire tutti quanti i problemi che possono essere generati da una situazione di non controllo cioè uso la parola far west per intenderci no? ok quindi la storia si muove all'interno di questi due estremi cioè ci possono essere momenti in cui si spinge verso una direzione di controllo perché si vogliono in qualche modo limitare alcune libertà oppure dall'altra parte perché invece si va verso un'armonia e si va verso un ragionamento di si fa la normativa perché si vuole creare quel contesto come posso dire per farci business per farci una società sopra e tutto il resto no? e quindi è uno strumento è uno strumento non potrebbe anche portare guarda io onestamente da questo punto di vista allora premetto io sono si dice di scuola austriaca cioè l'economia austriaca quindi tendenzialmente non vedo di buonissimo occhio l'interventismo statale non vedo di buonissimo occhio tantissima diciamo regolamentazione di quasi ogni settore però effettivamente ci sta questa cosa cioè ci sta nel senso che è vero che fondi di investimento investitori o comunque sia smart money come insomma come li vogliamo chiamare li vogliamo chiamare hanno bisogno di regole quindi quindi effettivamente sì la regolamentazione anche io sotto questo punto di vista penso che porterà un giocamento io per esempio ti dico una delle difficoltà che adesso vedo se non dovessi se non dovessi utilizzare un software cioè quindi io dico io spettatore io non voglio utilizzare crypto books io voglio fare in autonomia perché questione economica questione magari di scelta io penso che un problema gigante sia ad esempio la questione che quella relativa alle criptoattività e al diverso tipo di utilizzo io qui avrei una domanda perché secondo me non è molto facile da capire cioè le criptoattività non sono tutte uguali e dal punto di vista fiscale crypto books si adatta a questo tipo di problematica sì sì assolutamente perché ovviamente abbiamo dovuto fare un lavoro molto importante lato software perché dal primo gennaio cioè noi affrontiamo tutte le dichiarazioni scusami tutti i report dichiarativi fino al 31 dicembre del 2022 in un modo dal primo di gennaio del 2023 ovviamente le criptoattività che vengono rendicontate su crypto books cambia la fiscalità è proprio italiana cioè questi tra un mese fanno una legge e dicono che Ethereum è un NFT perché il legislatore non ci ha capito niente sostanzialmente voi quindi state proprio passo passo seguendo corretta al momento nella normativa attuale quella che vale dal primo gennaio 2023 sono state previste quattro categorie diverse di criptoattività ok più due macro categorie ancora più grandi diciamo però quelle quattro principale esatto questo ok quindi tipo c'è una tassazione diversa se io vendo Bitcoin per Ethereum o Bitcoin per USDC allora questa è la principale differenza nel senso quando tu facevi uno scambio cripto su cripto prima del 31 dicembre del 2022 questo non creava un evento economico per calcolare la plusvalenza ok quindi erano la stessa cosa quindi quando parlavamo di cashout tutte le volte che abbiamo detto cashout prima è riferito esattamente al passaggio da cripto a valuta fiat a euro o dollari o quello che sia poi quello che fa in cripto è tutto uguale poi quando esci esci quando esci esci e là va calcolata diciamo come evento proprio economico la plusvalenza mentre dal 2023 in poi se tu fai uno scambio cripto su cripto su criptovalute che hanno natura diversa quella quello scambio deve essere considerato ai fini del cashout e noi ovviamente all'interno del software lo consideriamo ora ovviamente noi abbiamo fatto tutta quanta una serie di assunzioni nel senso di abbiamo detto che cosa pensa diciamo l'agenzia delle entrate per faccio un esempio token di pagamento perché i token di pagamento criptovalute là c'è scritto a chiare lettere ether bitcoin ma possono esserci delle altre sì sì penso sia veramente complesso certo non avendo una lista di quello che avete giustamente dovuto anche interpretare insomma c'è un discorso di interpretazione poi ovviamente chiederemo pure facendo una lista chiedendo questa sì questa no perché sarebbe molto bello se lo facessero molto bello esatto però le altre categorie ti faccio esempio gli nft è semplice gli nft è semplice gli nft sì le stable coin quelle algoritmi che fanno parte dei token di pagamento quelle non algoritme cioè quelle con riserva che hanno in qualche modo un asset chiamiamolo reale del mondo tradizionale quelle invece sono criptovalute diverse nella propria contabilità se uno dovesse vendere bitcoin per USDC ha un tipo di impatto fiscale mentre se uno dovesse vendere bitcoin sempre per per DAI DAI algoritmica no avrebbe un impatto fiscale diverso perché comunque sia sono di natura diversa ho capito bene bitcoin e DAI corretto corretto poi su DAI è un altro tema perché un pezzettino è algoritmo infatti ho preso mamma mia complicato ok però vabbè questo è anche un po' il bello del seguire queste cose perché poi ovviamente ecco queste sono le cose su cui si discute allora ecco hai preso un elemento dove ci si può discutere e andare a capire si può scrivere meglio si può fare di più si può fare una lista eccetera però la razza che c'è sotto secondo me equiparare le criptoattività agli asset tradizionali della finanza diciamo che tutti quanti noi conosciamo tassarli allo stesso modo e in qualche modo cioè come ti posso dire certificare che questo è un mercato che esiste e che esisterà certo da una parte chi dà anche un riconoscimento quando tu vai a normare qualcosa lo stai comunque riconoscendo caspita cioè anche l'ETF l'ETF è un'arma a doppio taglio per chi fra virgolette è un po' più massimalista del mondo bitcoin perché perché è massimalista è una cosa abberrante proprio BlackRock che compra bitcoin l'ETN per darti l'ingestione per guadagnare il ter insomma però però è vero però da una parte porta anche capitali interessi massadoption il fatto che comunque c'è tutto quanto un mercato di persone che non deterrebbe diciamo i wallet in maniera custodial nel senso che nessuno si vuole prendere magari cioè nessuno tanti non vuole prendersi quel rischio per paradosso se tu c'è questo spirito libertario che dici bitcoin va nella direzione in cui gli operatori che operano su bitcoin tutti i miner i sviluppatori gli utilizzatori devi accettare che il bitcoin va nella direzione in cui questi operatori stanno andando certo certo non fa una piega il problema è che comunque anche per chi la pensa diversamente volendo o non volendo si sta in uno stato diritti doveri poi non entrava nel merito dello stato italiano eccetera però effettivamente una volta che ci sta una legge si può anche trasgredirla però si corrono dei rischi e ci sono delle sanzioni le sanzioni le hai accennato prima fino anche a un 30% in caso di questa l'ho vista anch'io in caso di paesi illegali o in blacklist insomma roba del genere quindi ci sono delle sanzioni e vanno dichiarate purtroppo è purtroppo è chiaro invece io ti voglio chiedere una domanda perché un'altra osservazione che a me mi hanno fatto gli iscritti al canale è che non si fidano tendenzialmente di software a cui appunto tu devi andare a dare un codice un qualcosa perché comunque se la criptobux è tutto automatico cioè non è che uno deve andare là a segnare le cose è tutto automatico qui ci sono dei rischi cioè come funziona lato utente cioè io arrivo dico ok ora voglio regolarizzare pago il 3,5% sono iniziato dal 2017 non mi interessa però dal prossimo anno sto tranquillo come funziona un criptobux cioè com'è il collegamento da che punto di vista parli di rischi diciamo sul discorso del calcolo della paura dell'investitore di andare a collegare Coinbase Binance a criptobux cioè ci sono dei rischi bisogna no guarda allora innanzitutto quando si fa un collegamento automatico ok si utilizzano le API dell'exchange in quel caso ma le API sono in sola lettura ok e tra l'altro tra i dati che noi prendiamo ci sono solo le transazioni cioè noi ci interessa soltanto fare la rendicontazione della transazione quindi da quel punto di vista il rischio è praticamente nullo zero sostanzialmente criptobux può leggere questa è importante per parola la sottolineo per chi non lo capisce per chi non l'ha non l'ha ancora compreso perché comunque sia so che andarsi a vedere poi video di fiscalità e cripto magari a volte può essere pesante quindi ci sono delle modalità per entrare all'interno delle piattaforme centralizzate e dare il codice di sola lettura quindi sostanzialmente si dà questo codice voi prendete tutte le informazioni abbiamo detto sia centralizzati che decentralizzati giusto si può fare ovviamente il combinato no? si corretto e a quel punto c'hai tutto tutti i report compresa la sanatoria quindi si può anche regolarizzare io sono anche tra quelli potenzialmente interessati per conoscenze amici insomma è una tematica che secondo me prende il 90% delle persone perché non so se posso se posso ti condivido proprio lo schermo velocemente questo qua è uno dei nostri report per la sanatoria ah ok guarda questa qua è la sezione seconda del modello di regolarizzazione dell'agenzia delle entrate ok quindi qua vedi ci sono gli anni di regolarizzazione 2016-2021 e qua sono quattro colonne che vanno riempite in maniera diversa a seconda di quello che tu hai fatto e noi qua sotto con CryptoBooks vedi questa è la colonna 1 questa è la colonna 2 cioè ti scriviamo già proprio i numeri da scrivere in base ai collegamenti che uno vi ha dato sostanzialmente e volendo cioè volendo scusa poi ovviamente devo fare anche a mano però noi mettiamo già il calcolo delle sanzioni in questo caso questa qua sarebbe quella dei cash out la sezione 3 sì quindi direi questi sarebbero il 3 e mezzo dell'intero portafoglio e questo qua invece sarebbe lo 05 delle mancate dichiarazioni RW mettere proprio come è il il modello diciamo dell'agenzia delle entrate e i numeri che in base a quei numeri vanno scritti ok se vuoi controllarti transazione per transazione vai nel software nostro ti vedi ovviamente cripto per cripto c'è tutta quanta la movimentazione in dare avere quindi se vuoi puoi controllare e più facciamo un report con tutta la lista delle transazioni che hanno generato cash out pazzesco io una cosa che ti voglio chiedere questa è una mia domanda personale perché io in Crypto Books ho utilizzato anche altri prodotti ad esempio io tempo fa utilizzavo delta che però è molto superficiale cioè nel senso che ti permette di inserire transazioni collegamenti solamente due non illimitati e non ti fa un report purtroppo cioè ti dice solamente quanto è il tuo portafoglio quindi ci fai abbastanza poco la cosa secondo me e non voglio fare una marchettata ma lo dico veramente secondo me la cosa molto interessante è quando su Crypto Books mi capita anche personalmente che ho anche io l'account ti fa l'aggiustamento del saldo cioè l'aggiustamento del movimento ti volevo chiedere anzi no scusa lo accenno se no non si capisce cioè su Crypto Books si possono andare a collegare tutti i tipi di portafogli dopodiché per chi non l'avesse mai utilizzato se qualcosa non quadra quindi ci sta una squadratura giusto quando ci sta una squadratura sostanzialmente ti dà proprio un errore ti dice guarda c'è qualcosa che manca del tipo hai speso Bitcoin che non dovresti avere una cosa del genere e questa cosa è molto interessante e la cosa fighissima veramente Crypto Books è che tu li puoi lui te li segnala poi tu gli puoi andare a dire giusto correggimeli la mia domanda è dal punto di vista fiscale cioè quando uno fa una correzione sostanzialmente è come se voi ipotizzaste un movimento che però io non ho comunicato allora questa cosa va chiarita ovviamente perché noi ti facciamo in automatico tutte quante le cose che non sono quadrate quindi non riconciliano facciamo un esempio tu hai iniziato magari con un saldo iniziale in uscita di Bitcoin ma dove sta il saldo quindi quella potrebbe essere una cosa oppure un trasferimento tu hai trasferito da un exchange a un tuo wallet ma quello è un giroconto cioè non va calcolato come cash out quindi ci stanno tutta una serie di cose che valgono per la contabilità tradizionale e noi le abbiamo fatte valere anche ovviamente per la contabilità delle cripto quando ce ne accorgiamo diciamo guarda qua c'è un problema c'è un errore ora ci sono tre livelli di correzione di quell'errore allora se tu vai nella procedura guidata quella a cui accennavi te noi ti diciamo guarda vai nella tua piattaforma ok e verifica che hai scaricato tutte le transazioni due magari aggiungi una transazione manuale perché il Bitcoin che ti era entrato magari era da una donazione adesso faccio un esempio ovviamente quello non può saperlo nessuno cioè ti arriva e quello devi inserirlo questa mi fa pure nascere un'altra domanda vabbè dopo te la faccio su fiscalità informazioni regali terzo noi mettiamo un discorso di autocorrezione ora l'autocorrezione però c'ha due aspetti che vanno considerati per essere diciamo chiariti del tutto il primo quella va utilizzata soprattutto con i cosiddetti arrotondamenti cioè quando l'exchange ti arrotonda che ne so al sesto decimale al settimo decimale è vero che non ti quadra ma stiamo parlando di decine di millesimi di euro quindi in quel caso l'arrotondamento se tu invece lo fai su un importo maggiore noi ti facciamo mettere la correzione come importo e quale contrario ma ti prendi la responsabilità e quindi devi scrivere il motivo e te lo mettiamo in nota integrativa ah ok ok quindi ok quindi comunque è tracciato è tracciato cioè non è che tu la metti è finita lì cioè nel senso l'hai messa ti sei preso la responsabilità nel senso ripeto non è che le transazioni manuali non sono valide ah ok ok te volevo fare una domanda non mi sono dimenticato qual è a me ricordo io quella sulla donazione bravissimo ok altra domanda questa penso sia interessante perché io anche personalmente conosco persone io personalmente ho fatto un regalo tipo nel 2017 a un battesimo del mio amico stretto regalai bitcoin al neonato su un paper wallet immaginando di essere quel mio amico dell'epoca come come è vista da un punto di vista fiscale la questione donazione perché è anche complessa perché vuoi andare a dimostrare che qualcuno ti ha regalato qualcosa però su un non so wallet su metamask magari è anche il mio stesso wallet cioè come sono tassate anche allora la donazione è uno degli aspetti che è stato normato bene nel senso che è chiaro fondamentalmente la donazione per il donante cioè per colui o colei che fa la donazione quindi potrebbe essere anche una regalia come dicevi te ha un impatto fiscale pari a zero cioè tu hai comprato quel bitcoin facciamo un esempio pratico così ci capiamo allora io vado sul mio kraken prendo 200 euro li trasformo in bitcoin e me li sposto su un wallet ok e magari quel wallet l'ho aperto già a nome della persona oppure ok a cui voglio fare il regalo per intenderci perfetto e li sposto su quel wallet ok ora che succede che quel pezzettino di bitcoin ha un prezzo di carico che sono 200 euro ed è oggettivo perché l'ho preso dall'exchange ora io posso mettere nella dichiarazione e in qualche modo faccio un esempio mandi una mail fai un messaggio d'auguri fai un qualcosa che dichiara come prova in qualche modo che tu hai inviato quella transazione come regalia a quella persona lì giusto per avere in qualche modo traccia che succede che per te è come se avessi fatto un ingresso di bitcoin valore di carico 200 euro un'uscita di bitcoin anche se il prezzo di mercato era diverso sempre di 200 euro ok è un modo penso per non farlo per non farlo essere fiscalmente rilevante per me perché la persona che lo riceve lo prende in carico a 200 euro ah ok quindi è come se il suo prezzo di carico fosse 200 euro perché è quello che ho utilizzato io indipendentemente dal prezzo corretto indipendentemente dal prezzo del momento in cui lui o lei lo riceve sono regali per modo di dire è come se ti regalo qualcosa che però ti porta anche un carico fiscale cioè se io adesso a te ti regalo un bitcoin quando lo venderò quando lo venderò quando lo venderai tu sarai comunque soggetto a tutto quanto sia al monitoraggio che a eventuali disvalenze anche al monitoraggio esattamente assolutamente questa è una domanda che c'avevo da un bel po' di tempo non me l'ero ancora chiarita magari come dicevo un messaggio una mail qualcosa ma giusto veramente per avere una traccia che effettivamente è stato un regalo e poi il prezzo di carico a colui cioè chi l'ha ricevuto si porta avanti il tuo prezzo di carico guarda io ho solo un'ultima domanda che me l'ha fatta un iscritto praticamente ieri se te la posso fare prima di andare in casa allora la questione cashback allora noi sul nostro gruppo quello su telegram su youtube siamo abbastanza fissati col cashback ce ne stanno tantissimi utenti che amano il cashback io in primis utilizzo la binance card da veramente tanto tempo e per quello sono preoccupato per la tassazione però il punto è il cashback come è considerato cioè io ho una binance card adesso è un po' peggiorata però immaginiamo che sia ancora ai tempi d'oro metto euro su binance spendo euro e ricevo bnb il token di binance questa cosa cosa comporta cioè il prezzo medio di carico di cashback che a me mi viene regalato o si potrebbe anche fare con l'airdrop quella che ci penso però come va gestita e soprattutto tipo crypto books traccia anche le operazioni con la carta di binance sì allora due domande ti rispondo all'ultima perché è più semplice e cronologicamente viene prima binance ma tutti gli exchange funzionano così hanno gli account diciamo a compartimenti stanni cioè tu poi tu sposti i fondi dall'account trading all'account binance card cioè lo sanno tutti questi effettivamente sono tutti così trading main account gli devi dire spostami queste crypto di qua di là no vabbè non dico niente di nuovo per chi fa queste cose quindi che succede che quando tu in realtà sposti crypto o euro dall'account diciamo crypto dall'account trading exchange all'account card e che la ricarichi diciamo così in qualche modo ok allora quello è già il cash out ok attenzione perché in qualche modo quando tu stai spostando è come se la stessi ricaricando ok e effettivamente poi ci sono due livelli ok tu puoi arrivare all'idello di contabilità già come questa considerarla come ricarica quindi tu puoi dire guarda l'ho ricaricata faccio un esempio adesso dico di mezzo bitcoin ok quel mezzo bitcoin va riconvertito in euro e tutto il resto eccetera ok poi ci sono exchange che ti fanno fare anche il passaggio inverso cioè poi pure dirgli riportami è vero tipo crypto.com infatti mi ricordo non lo faceva io non l'ho utilizzata molto poco la carta però è vero non si può da fare una volta che andavano su quell'account effettivamente era proprio segregato stavano lì o ti spendevi o non tornare indietro allora quindi già questi ti sono dei tecnicismi che solo chi fa il mestiere che stiamo facendo noi magari sì che sta là tutti i giorni a smanetà però effettivamente io penso il 90% della gente non li vedi non li vedi non li vedi giustamente altro lavoro giustamente giustamente non li vedi però già ad esempio se io sto su un exchange o una piattaforma che ti fa come dicevi te te li segrega una volta che l'hai spostati nell'account carta è una ricarica sì quella è già cash out se invece tu c'hai un exchange che ti dà anche la possibilità di riportarli indietro allora devi usare l'estratto della carta perché l'estratto della carta effettivamente interessante questa informazione molto interessante l'estratto della carta è perché nel primo caso è ricarica perché non ti fa tornare indietro nel secondo caso in realtà posso tornare indietro e quindi quello che conta è proprio quello che è uscito effettivamente dalla carta è l'estratto della carta una carta che è segregata tipo crypto.com in sostanza è come se avessi già fatto cash out perché l'ho messo su una carta nel caso invece di una carta che ti può fare un passaggio di crypto anche sugli altri conti dell'exchange in quel caso vale l'estratto l'estratto della carta vale l'estratto della carta e da quel punto di vista ovviamente ogni volta che viene fatta una transazione va convertita a prezzo di mercato cioè come se fosse un cash out a prezzo di mercato ogni volta quindi questo diciamo in termini proprio contabili crypto per fare i report che facciamo noi ed è un tema il cash back invece un'altra volta c'è questo aspetto di alcuni tecnicismi da capire perché il cash back in realtà pure la gestione dell'entrata è normato cioè il cash back viene visto da un punto di vista fiscale come una sorta di gestione della scontistica se lo usa la persona che l'ha ricevuto tant'è che il cash back di solito si usa anche nei negozi nel senso tu vai in una catena magari di fast food famosa dopo che hai comprato ti danno i soldi da spendere e tu però li rispendi presso lo stesso esercente ok anche adesso questo sistema è valido diciamo sulle carte di credito quindi non parliamo ci sono un sacco di carte che ti danno il cash back se le utilizzi ok parlo di carte di credito tradizionali quindi ovviamente le riusi all'interno del circuito della carta stessa ok sto pensando mi sembra anche Revolut col piano quello non basic dai cash back alcuni conti online danno il cash back sì quindi io spendo io ho accumulato anche diversi bnb utilizzandola da anni fai conto cioè quelli il prezzo medio di carico quindi di quei bnb ecco io come lo devo allora adesso sto arrivando a questa cosa nel senso se tu prendi l'interpello della gestione dell'entrata guarda mentre parlavamo l'ho un attimo scaricato imprenditore multidasing recetto lo vedo qua 338 del 2021 allora finché rimane io leggo l'interpello finché rimane nell'ambito in cui diventa una sorta diciamo di sconto che riutilizzi te leggo qua che non è tassato quando invece però ricevi bnb il concetto mi sembra un po' diverso perché tu quei bnb puoi spostarli e rivenderli ok non sono vincolato a quel circuito certo li posso mandare su pancake swap convertirli in usdt e spenderli e farci totalmente diciamo tutto quanto un altro un altro diciamo utilizzo quindi la dinamica mi sembra diversa quindi non non equiparerei quell'interpello a il cashback in cripto quindi in maniera veduta quindi in maniera veduta allora queste sono le dinamiche che dicevo all'inizio tu dici vabbè ti ci puoi muovere qui diciamo le dichiarano in maniera veduta io ti direi metterli metterli a prezzo di carico nel tuo portafoglio cioè quando ti arrivano il prezzo di carico è zero chiaramente perché è un regalo ok il prezzo di carico sì scusami il prezzo di carico è zero quindi ti arrivano e quando le spenderai in qualche modo dichiararci diciamo la plus valenza ok quindi è come se a cashback dovessimo sottrarci un ipotetico 26% perché è come se l'avessimo comprate a zero in sostanza in caso di eventuale futura plus valenza chiaramente se è minus valenza non vale ok ok questa è bella bella risposta perché però su questo è una mia interpretazione cioè nel senso anche io ho cercato non ci sta la gestione d'entrata ancora non ha fatto un interpello specifico non c'è stata una legge chiara però effettivamente ho mai letto anche l'interpello del 2021 lo Geo è proprio dichiarato sugli acquisti siamo in via prudenziale proprio prezzo di modo di medio carico a zero più che altro perché meglio di così non puoi fare lato fisco ovviamente allora io chiudo che siamo andati lunghi non so quanti arrivano fino alla fine su un tema così importante ma anche complesso allora volevo solamente ricordare a tutti quanti questo qua che vedete a schermo del codice sconto se vi volete scrivere avrete una prova gratuita di sette giorni così almeno entrate nella piattaforma la vedete per me è veramente fatta bene ma proprio anche a livello grafico intuitivo non hanno duemila sezioni tremila tassi è fatta bene quindi vedetela la prova è gratuita e niente con questo ti ringrazio sei stato esaustivissimo proprio è anche molto gentile grazie a te Roberto per il tempo e anche tutti gli spettatori che spero ci abbiano visto fino alla fine beh è complesso però me lo auguro perché secondo me c'è sta gente nel canale che va abbastanza deep abbastanza in fondo ti ringrazio ci vediamo alla prossima se avremo altre domande ti ricontatterò assolutamente grazie ciao Federico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti